Papu Gomez, siamo nei pressi del vertice sinistro dell'area della formazione di casa. Ancora il pallone, dato nell'esponibilità di Gomez, il traversone di Gomez. Il gol della Talenta, Giuseppini Cicc! Giuseppini Cicc! Il vantaggio della Talenta da Anfield nel tempio del calcio! È buono? Allora, c'è stato il traversone di Gomez. Vediamo un po'. Posizione regolare di Gomez, posizione regolare di Ilicic. Tutte e due regolari, sia di Gomez, prima del traversone, sia di Ilicic, che riesce a mettere dentro il suggerimento al bacio, in scivolata, di Gomez. Allora, Gomez fa questo traversone stupendo, in scivolata, al limite dell'area piccola, con il piatto destro, con il piatto destro, in scivolata arriva, Giuseppini Cicc, che timbra il pallone, lo spedisce in fondo al sacco, nonostante il tentativo disperato di chiudere, di serrare le maglie difensive di Alisson. 1-0, il gol dell'Atalanta storico, al sessantesimo, all'ora di gioco, nel tempio del calcio, a Danfield Road contro il Liverpool, campione del mondo per club in carica. Cioè, non stiamo parlando di una squadra di buon lignaggio, stiamo parlando dei migliori al mondo, dei migliori al mondo, Gomez, ancora il pallone al limite dell'area, pallone buono, ancora da poter giocare. Questo qui è Pessina? Sì. Pessina, nuovamente Gomez, siamo al limite dell'area, ancora un pallone dato la disponibilità. E c'è 2-0, il 2-0 dell'Atalanta, Robin Goses, incredibile! 2-0 dell'Atalanta, Robin Goses, al minuto 64, quello che non t'aspetti, quello che non t'aspetti, il 2-0 dell'Atalanta, Robin Goses ancora sul lancio illuminante del nostro Papu Gomez, ponte di Atebor, e poi dal limite dell'area piccola, completamente solo.